La Serie D va verso un lento ritorno alla normalità dopo il recepimento del protocollo per i campionati dilettantistici a cui la Regione Molise ha provveduto tramite ordinanza. Al firma del Presidente Toma si può ragionare ad un ritorno in campo che ci sarà a partire dal 6 settembre con la Coppa Italia Molise. Il protocollo riguarda ovviamente anche l'ambito della Serie D. Le molisane di quarta serie potranno giocare regolarmente rispettando la lettera del protocollo reso pubblico lo scorso 10 agosto. Il campionato di Serie D fa registrare la rinuncia a partecipare da parte del Sondrio. La LND ha comunicato che a prendere il posto della società rinunciante sarà il Vado, seguendo l'ordine della graduatoria dei ripescaggi. I Liguri sono secondi nella classifica dopo la San Maurese che è stata già ripescata. Il Campobasso si gode le ultime ore di riposo prima di un ritorno agli allenamenti a partire da lunedì 31 con ritmi regolari fino al primo impegno di Coppa Italia del 20 che presumibilmente potrebbe essere un derby contro una fra Agnone o Vasto Girardi. Lunedì la società dovrebbe rendere ufficiali le trattative con Yander, Capozzo e Piga, ma non solo perché è proprio sul pacchetto dei Yander che si concentra il lavoro del direttore De Angelis. Nella sostanza la squadra appare già in possesso di una struttura abbastanza ricca ed assortita. Di base è il Campobasso che stava conducendo una lotta serrata per contendere il primato al Matelica a suo tempo e la cosa più urgente da fare in questo momento è rimpiazzare i partenti fra questi Alessandro, Zammarchi, Musetti e Giampaolo. Questi ultimi due non erano certamente fra i titolari, ma in ottica campionato vanno rimpiazzate anche le cosiddette seconde linee. La Lega Nazionale Direttanti con grande probabilità provvederà alla redazione dei gironi entro la prima settimana di settembre. Iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui gironi delle Molisane. Quest'anno il Girone F, fra retrocessioni e promozione del Matelica, ha perso cinque squadre fra Abruzzo e Marche. Hanno vinto i rispettivi tornei di eccellenza per le Marche il Castelfidardo e per l'Abruzzo il Castelnuovo sul Vomano. Dunque per definire il Girone F si dovrà attingere da un'altra regione. C'è chi scommette su un ritorno delle Emiliane Romagnole, chi invece paventa un inserimento di ben cinque squadre pugliesi. Staremo a vedere. Ad Agnone è trascorsa un'altra settimana senza novità rilevanti. In realtà in Alto Molise fervono i preparativi per la nuova stagione. Da definire ancora la guida tecnica in ballo, i nomi di Senigaiessi, Liguori, Vullo ed Esposito. Quest'ultimo nome è uscito sulle cronache degli ultimi giorni. Uno fra questi, a meno di altre sorprese, dovrebbe essere il nuovo allenatore dell'Olimpia agnonese. Questa mattina il vasto Girardi ha chiuso il ritiro di Campitello Matese con un amichevole contro il Gladiator, che ha visto solo per la cronaca la vittoria dei Molisani 4 a 3 grazie ai gol di Ruggeri, Perrino, Pigozzi e Guida. Prosperi ha avuto la possibilità di impiegare tutti gli elementi a sua disposizione ed ha chiuso con soddisfazione il ritiro estivo. La dirigenza infatti si dice contenta dell'organico allestito e del lavoro svolto dallo staff. Il mercato del vasto Girardi è praticamente terminato, a meno che non ci sia qualche necessità da soddisfare all'occorrenza. Va detto che la squadra e lo staff si ritroveranno martedì in quel di Fornelli, dove il vasto Girardi terrà le sedute di allenamenti quotidiane per tutta la durata della stagione.